Non sono io quello che può dare delle risposte. Il mio pensiero, però, è che è successo qualcosa di molto pesante. Al signor Sterpin ho chiesto spiegazioni sul contenuto di una telefonata di 16 minuti avvenuta tra loro il giorno 13 dicembre. Il contapassi di Liliana ha registrato che ha fatto diversi metri dentro casa e che era molto agitata. Sono le parole di Sebastiano Vicentin, marito di Liliana Resinovic, la pensionata di 63 anni, scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un boschetto. Il corpo della donna era stato rinvenuto all'interno di due sacchi neri, mentre la testa era avvolta in sacchetti più piccoli. Qualche settimana fa Vicentin è tornato per la terza volta in tv. Durante l'intervista, incalzato dalla conduttrice su varie contraddizioni emerse nel corso degli ultimi due anni e mezzo, ha preferito evitare di rispondere, mostrando evidente irritazione. Non sono venuto qua per parlare di queste cose. Ha voluto esprimere la sua opinione su quanto potrebbe essere accaduto a sua moglie. Innanzitutto ha ricordato un episodio avvenuto il 13 dicembre 2021, il giorno prima della scomparsa della pensionata. Secondo i tabulati telefonici, Lilli ricevette una telefonata da Claudio Sterpin, che durò ben 16 minuti. Successivamente Sterpin ha rivelato di avere avuto una relazione segreta con Liliana da alcuni mesi e che stavano pianificando di andare a vivere insieme. Ha anche affermato che Liliana aveva già comprato lenzuola nuove da portare a casa sua. Sebastiano però ritiene che tutte queste affermazioni siano bugie. L'ex fotografo crede che Sterpin si sia illuso sul tipo di rapporto che aveva con Liliana e ha accusato il rivale di aver esercitato un'oppressione su sua moglie. In passato, ha invitato Sterpin più volte a rendere pubblico il contenuto della telefonata di 16 minuti avvenuta tra lui e Liliana il giorno prima della scomparsa. Sebastiano non lo ha affermato direttamente, ma ha lasciato intendere che la telefonata potrebbe aver agitato la pensionata a tal punto da spingerla a compiere un gesto estremo. A suo dire, sarà la scienza rispondere alle domande cruciali. Quando è morta Liliana? È avvenuto il giorno della sua scomparsa o poco prima del ritrovamento del suo corpo. Il primo medico legale incaricato dalla procura di Trieste ha stabilito che Liliana fosse morta due o tre giorni prima che il suo corpo fosse trovato nel boschetto, il 2 o il 3 gennaio 2022. Se fosse così, ci sarebbe un buco temporale di 20 giorni. Dove è stata la donna durante questo periodo? Nessuno l'ha vista. Tornando alla telefonata del 13 dicembre 2021 e al misterioso contenuto, Vicentin ha aggiunto Credo che Liliana e Sterpin abbiano avuto uno scontro sulle idee di lui. Evidentemente Liliana non era d'accordo sulle cose che diceva. Io sono convinto che questa storia d'amore fra loro non ci sia stata, una frequentazione magari sì. Per quanto riguarda invece le indagini, che si avvicinerebbero alla fase conclusiva, Vicentin ha dichiarato. Non vedo l'ora che la procura, sulla scorta di quanto raccolto dalla dottoressa Cristina Cattaneo, il medico legale incaricato di eseguire la nuova autopsia sul cadavere riesumato, esponga la sua relazione e ci dica che cosa è successo. Durante la trasmissione, Vicentin ha anche affrontato il tema del suo rapporto compromesso con il figlio Pier Giorgio. La situazione si è complicata a partire dal 30 dicembre 2021, quando Liliana era scomparsa da due settimane e Sebastiano, la sera stessa, ha chiesto ai vicini una corda. Secondo lui, serviva per tirare fuori l'auto del figlio, rimasta bloccata nel fango. Ha anche chiamato l'amico Arturo, che però vive a 100 chilometri di distanza. Questa circostanza ha sollevato dei dubbi, anche perché in una situazione del genere sarebbe stato più logico chiamare un carroattrezzi o un servizio di pronto intervento. Questo episodio, diventato di dominio pubblico, ha contribuito a minare i rapporti tra padre e figlio, coinvolgendo Pier Giorgio involontariamente sotto i riflettori dei media. Vicentin ha spiegato che la telefonata all'amico era solo per informarlo dell'incidente e per confermare che tutto era stato risolto. Ha aggiunto che anche Pier Giorgio è stato interrogato dagli inquirenti. Il mistero continua.